Musica Voglio solo che sappiate quanto significhi per noi che siate tutti qui. Grazie a mamma e papà. Bellissimo! Padre misericordioso, benedici lui e questo cibo. E così rinvigoriti nelle forze, attendiamo la tua gloriosa venuta. Amen! Fino a circa 5-6 anni fa, il genere horror sembrava ormai essersi definitivamente rinchiuso o in uno scantinato oppure in una stanca sequela di remake. Ma per fortuna, negli ultimi 2-3 anni si sta assistendo a una rinascita, soprattutto per opera di giovani registi. In tal senso appare paradigmatico Your Next, film low-low budget del giovane Adam Wingard in cui si mescolano alcuni espedienti classici del genere con uno stile registico tipico del cinema indipendente americano di questi anni. Solo! Perché lo fanno? Praticamente tutto ambientato in una villa isolata in cui una coppia di circa 60 anni celebra con i quattro figli 35 anni di matrimonio, Your Next si rivela sia un tagliente ritratto di famiglia, sia un liberatorio racconto d'arc in cui la famiglia alto-borghese benpensante viene man mano letteralmente decimata. A operare l'atto sono tre uomini mascherati e armati di balestra. Ottimamente scritto, condito da una spiazzante serie di colpi di scena e girato con uno stile volutamente minimal, Your Next non manca di spettacolarità e di cruda violenza, con una serie di sorprendenti, grotteschi ed efferati omicidi. E soprattutto mette in scena un dramma e un conflitto tipicamente umani, dove nulla è dato al sovrannaturale e dove a muovere le fila di ogni cosa è il dio denaro. Grazie per la visione!